Siamo stati qui per dare benvenuto al principe Reza Pallavi, che è l'alternativa politica numero uno contro il regime islamico, che ha un incontro molto importante con alcuni parlamentari italiani. Chiediamo al governo italiano ovviamente di cambiare la via e prendere posizioni forti contro il regime islamico, ovviamente seguendo le richieste che farà principe Reza Pallavi in questo incontro. Grazie a tutti.